Da qualche settimana le ACLI provinciali di Bologna hanno aderito al Network Family, grazie a questo servizio che è partito proprio dall'Agenzia della Famiglia del Trentino. Abbiamo deciso di aderire come ACLI provinciali proprio perché da qualche anno stiamo lanciando sulla città di Bologna e anche su tutta la città metropolitana delle politiche per quello che riguarda la famiglia, partendo dall'esperienza dei centri estivi, ai corsi di italiano, dopo scuola per i bambini. Da qui abbiamo deciso di intraprendere, partecipare a questo Network dando comunque anche il nostro contributo. Ci siamo fatti promotori qui sulla città di Bologna ma dico anche sulla città metropolitana di aderire e di farci anche portavoce per gli enti locali. Quindi l'auspicio è che magari anche il comune di Bologna stesso e anche i comuni dell'area metropolitana possano aderire a questo Network. Serve un impegno, un impegno concreto da parte di tutti quanti su quello che sono le politiche della famiglia. L'idea è quella di far aderire gli enti locali portando concretamente delle proposte forti che possono essere di supporto alla famiglia. Quindi per quello che può riguardare il trasporto urbano oppure anche nell'ingresso nei musei. Quindi attraverso una family card, questa è una tesserina che è stata intuita, messa a disposizione per coloro che decidono di aderire e quindi anche da qui il comune di Bologna potrebbe anche prossimamente aderire alla family card dando comunque un servizio alle famiglie.